uno scoop ha fatto scalpore perla e mirko pizzicati mentre si dirigono nella stanza d'hotel ma cosa è successo dopo la finalissima del grande fratello scopriamo tutti i dettagli di questa emozionante storia d'amore che ha conquistato il cuore del pubblico dopo aver giurato amore reciproco durante la finale perla e mirko sono inseparabili l'epica vicenda di temptation island sembra ormai un lontano ricordo mentre i due ritornano alla normalità ma cosa è successo dopo i fan hanno assistito a tenere i momenti tra i corridoi dell'hotel confermando l'autenticità dei sentimenti di mirko in un'intervista esclusiva con chi perla e mirko hanno espresso il desiderio di privacy dopo mesi sotto i riflettori mirko non esclude nemmeno l'idea del matrimonio mentre entrambi sognano di trasferirsi a roma per iniziare un nuovo capitolo insieme auguriamo a questa coppia tanta felicità e successo nel loro futuro insieme